Stiamo ancora con le aziende distrutte, piena ancora di fanco secco. Abbiamo una situazione che dall'origine dell'alluvione del primo marzo fino a oggi non è cambiato nulla. Il governo, ahimè purtroppo è successo quello che è successo, non ci danno risposte. L'ordinanza è pronta da due mesi e non viene firmata. Noi vorremmo stare nelle nostre case, nelle nostre aziende a lavorare, a fare quello che normalmente facevamo. Ci sono anche case che sono distrutte e ci sono persone ancora fuori dall'abitazione che sono, ahimè, sistemate in un modo schifoso. Perché chi va un giorno da una parte, chi va un giorno dall'altra, chi non ha ancora un'abitazione. E purtroppo non sappiamo ancora cosa fare a distanza di nove mesi. E purtroppo la pazienza, ormai siamo stati dalla gente non educata, ma troppo educata. Ora l'educazione è finita. I mesi passano, sono quasi nove, cresce il malcontento tra gli alluvionati del 2 marzo. Si sentono sempre più soli e abbandonati. Lottiamo per il nulla, dicono, mentre installano la tenda dove Gianni Fabris, portavoce del Comitato Terrelloni, che porta bandiera di tutte le iniziative che fino ad oggi hanno visto protagonisti gli alluvionati, porterà avanti l'ennesima protesta, un nuovo sciopero della fame. Sul tavolo del Presidente del Consiglio dei Ministri c'è l'ordinanza già scritta per sbloccare il percorso che attendiamo inutilmente da nove mesi. Adesso è arrivato il momento che queste risorse, che sono ferme e chiuse nel cassetto, sono pubblicate in gazzetta, quindi non capisco che sono certificate, sia quelle della Regione Punita che della Regione Basilicata, si spendono, si mettono a disposizione. Il governo precedente non ha emesso l'ordinanza, questo governo la deve fare come un atto dovuto nel giro delle prossime ore. Lo sciopero andrà avanti ad oltranza fino a quando non saranno sbloccati i primi fondi, quantomeno per la messa in sicurezza del territorio, e nei prossimi giorni potrebbero accodarsi al digiuno anche i sindaci dei comuni interessati. Vogliamo chiamare il territorio, le istituzioni del territorio a scendere in campo. Chi dovrebbe dare risposta, e non le dà da nove mesi, ha sulle spalle, sulla propria coscienza, la responsabilità di un'intera comunità che attende da nove mesi, fra l'altro, mentre altri, i veneti, i toscani, i liguri, chi più chi meno, ahimè, pur nella sciagura, stanno ottenendo risposte. Grazie. Grazie.